Abbiamo fatto una quella volta lì. Allora, provavo fare io, aspetta. Ah, forse se pigiate su di me da Steam, dovreste poter fare... Unisci, ti dico. Esatto. Mi metto only... Io vado a prendere un bicchiere per la mia acqua. Mamma mia. No, posso solo guardarla la partita. Ah, wait. Aspetta, space to join? Eh, non no, perché in teoria ho già creato la lobby. Quindi, allora, aspetta. Ho creato la lobby, aspetta, ce la sto facendo. Sì, ma ho già creato la lobby, nani? Sto cercando di vedere le cose per aiutarti. Adesso, guarda, non qua. Devo fare io join lobby, forse, cross lobby. Ah, eccoti. Allora, bisogna andare in online, dire sì, voglio essere, fare space, eccetera, quel che è, e fare il browse lobby. La password qual è? Allora, adesso sono live anche io. Allora, ve lo mando su, vi mando la password sul telegram. Allora, già non si stanno organizzando tutta cosa, io non so niente, mi hanno detto, andiamo con questo gioco. Ecco, io ho detto, va bene, sicuramente adesso falliremo qualsiasi cosa perché... Allora, ogni volta falliamo. Allora, l'unica cosa in cui... Sono entrata, sono blu. Eccola, l'avento. Allora, facciamo così. Posso entrare? Sì, sì, sì. C'è tutto schermo nero per adesso, guardali. E non posso. Allora, devi andare in online. No, fai così. Ok. Allora, nel gioco online. Incredibile però. Eccomi, sono gialla. E... Ok. Batti la barra spaziatrice due volte. Batti. Batti. Certo, perché se come la faccio io prima che era fortissima. Allora, non voglio fare niente. E vabbè, wheezing. Wheezing. Allora, io sono player rossa in questo momento. Non so perché. Va bene. Dovrebbe esserci in giro da qualche parte. Join random lobby. No, bros. 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 Bros lobbies. Esatto. E c'è quella di Albo. La password l'ha mandata su Telegram. La mando io qui su Discord. Eh, pollo con la P maiuscola, dato a chi se ne frega. Cocotè. Eccoci. Quanto sei grande. Cocotè. 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 Che non è grande te hai. È il verde più sgargiante che una persona abbia mai pensato di creare. È il verde più verde. È il verde più sgargiante che una persona abbia pensato di creare. Ci sono varie modalità. Ovviamente qua c'è il primo First Deathmatch. Ovviamente facciamo il primo che arriva a 30 kg ovviamente vince. Il secondo team vince. E poi ci saranno tutte le altre che sceglie Lost. In questo caso è Albo. Io riempio il mio nuovissimo di pacca bicchiere. Ho acquistato una partnership con... No, non è vero. Non è una partnership con questa te. Se ne compri sei, ti danno il bicchiere. Io oggi ho comprato 24 uova e volevano regalarmi la padella. Beh. Da MD la fanno questa cosa. E poi ti dicono Te la regaliamo però se spendi un euro in più. Che regalo è? Un regalo pagato. Un regalo per te stessa praticamente. Adesso appunto mi compravo la padella e faccio un trip. Allora. Dobbiamo farlo in mappe randomiche o scegliamo la mappa? No, facciamo la random. Dobbiamo ucciderci. Punto. Vedi il lumino dell'appo colore è massacrando. No, no. No, no, no. Questa è la cosa bella. Voi non vedete lo mio dell'altro colore. Voi dovete guardare gli schermi degli altri per capire dove siamo. Perché siamo invisibili. Sarò tutta confusa. E questo è bello. Non ti preoccupare. Ti preoccupare. Le prime partite fra me e la fra era dove sei? E l'arrivo un coppino da dietro. Pah. Arriva. Pah. Oddio c***o. Ok dai. Iniziamo con le randomiche. Dai vediamo cosa succede. Vediamo. Eh bene. Vengono in mano. Di mappe non ce ne sono granché eh. Quindi ve lo dico. E? Ed è che è successo. Cosa ho visto? Oh mio dio non so dove sono. Ah ok. Oh mio dio. Ho capito dove sono io. Però non ho capito dove sono gli altri. Ehi. Ehi che è che ho fatto ucciso. Ma che c***o. Che c***o io. Solo al punto di scuola si possono cambiare le armi. No quando muori. Io. Io. No qualcuno è salito. Ah. Ma io ho ucciso. Ma allora basta. Chi è che mi segue. Sono tutti qua? Parapapapapapaparapapapapapapapapapapa. Eh. Non si capisce niente. Lo so. Che casino. È un p***gno. Io lo so. Ma me fa troppo ridere come gioco. Come fai è ucciso? Non vediamo in diretta. Eh. Ah sì. Ogni tanto possiamo sbattere l'uno contro l'altro. e ci sarà e ci sarà il come cazzo si chiama qua no l'inflitto lo scontro fra i corpi non mi viene come cazzo si dice poi blocca al conto dei corpi ok un certo punto vedremo certo punto iniziamo a poter bloccarci a steca ti ho pancicato in qualche modo sono ultimo valora qualcuno è un cecchino qualcuno fermi la signora piada chi è il giallo la piada qualcuno fermi la piada è troppo avanti tranquilla poi sono stato eviscerato ma non ma quanto forte in testa se usate armi che fanno danni ad area e vi uccidetevi togliete punti stavo a me sono stato affolato c'è una marea di non vedo una minchia non vedo ti do anna e ti sei direppata poveri ti ho marmellato piano oh mio dio è marmellato ma cos'è questa cosa incredibile oh mio dio non fate gli stronzi che stavo bevendo no 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 tranquilla no dai questo no ok non si bughi nani non mi sto buggando ti sei beccato un esplosione pieno no dai l'avevo visto l'avevo visto ma niente scusate insomma mi abbassa un attimo la musica nelle orecchie aspettate un attimo io invece la metto perché di solito non ci gioco con la musica ok eccomi oddio ma io ma io accidentemente accidentemente io alquanto ma quanto sono il dittatrice di shooter che ho premuto la r mi sono mi sono fatta sono fatta cretina un attimo sono fatta cretina fiddlestick secondo me perché fiddlestick? eh volando intanto bombe ma allora dov'è? eccolo no la città gioco si c'è c'è un sacco di citazioni in sto gioco qualcuno la smette di essere con il blu? no perché dovremmo? scusami ho rischiato di uccidermi fortissimo ma dove sono? mi sono a moro è terribile you dead voglio vederle tutte ragazzi voglio vederle tutte andando avanti con andando avanti con i livelli si sbloccano nuovi ragdoll oh dio non mi direi queste cose ma scusami non mi sono aiuto sono inciampata che successo no 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 scusami più ragdoll a caso il blunderbuss ma allora sì ero un sacco io sono un orso comunque sono stato slappato dalla da ilenia mamma mia cosa cazzo è successo? oh mi ho ucciso due mentre sono morto mi ha ucciso e l'ho morto ho detto che mi ha ucciso due mi ha ucciso due quando qualcuno mi ha ucciso è una bomba quiere? ecco la mia o la tua? allora guarda che c'è un'altra bomba orso adesso guarda ora come si ha cheiter guarda äh cheeebar è terribile la bomba orso no non è vero è meravigliosa fa veramente schifo è terribile da mirare si bisogna staperla usare perché è veramente uno non ho messo a usare una roba Ale come hai fatto ad arrivare in negativo scusa che si sta facendo? abbiamo visto che c'è anche il negativo io vedo cose oh no sono tutti su e scendevo e certo io vedo tutti i cadavere attorno eh si bellissimo non sono da solo guarda quanti cadaveri ti ho tradotta ma che schifo è questo questo schifo questo schifo eh cos'è si è un'arma estremamente brutta perché va avanti e poi torna indietro ho anche fatto un achievement grazie eh ma non ci mi hai scoperto? in che senso? eh sei un nuovo tipo di fossile ah va bene ma è un di senza arma eh scusi ho 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 incremato i legni e ho tostato la pia... la tosta no scusi il candelabro no scusi il candelabro no ti ho fritta non... di nuovo di nuovo voi due sei pure il candelabro ahahah si lo so che c'è il candelabro mi fa troppo ridere double kill dai cazzo ma io mi stavo lanciando di sotto no ma lei mi ha fatto un altro schifo a casa non so ma sta spammare il tasto del mouse con il candelabro regalo è veramente ma loro si spinoscopo eh va bene la tua vita sentimentale sono problemi tuoi però Ale va bene ah è già fatta ah mi sono stato rotto è un dato fuoco io ho paurissima ah che ho bevuto eh si eh you drunk cosa vuol dire ah era appena tornata anche lei era appena tornata qualcuno è salito con l'ascesore con me mamma mia mamma mia piatta credo c'è qualcuno con me? no si qualcuno è con me eravate tutte lì eravate pensiamo un po' troppo con un cervello unico però raga eravate 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 come ah ok come presi x to jason scusi presi x to jason oh dubbe sei eh non mi ho avrei nikki ho visto qualcuno morire davanti a me nel mio gento va bene capisco perche' eh non si è salvato il vabbè 25 non ho capito perchè mettonate dietro una bomba che non avevo lanciato 26 bombe 26 ok ma dai va bene mi sono uccisa da sola you did you did oddio scusami il secondo achievement che faccio fa culo ma non ma non ma io l'ho visto da me a parte che qualcuno si io l'ho visto da me cosa cazzo è successo scusi io l'ho diviso per zero addirittura ma non ha quanti appena appena l'ho visto e l'ho visto disapprove ti ho disapprovata dai sta bevendo a accandelata ma ammazzo allora basta e basta che mi rilassia tu dici ma lei è potentissimo con candelabro voilà dai ai candelabro contro candelabro guarda ma il viola l'ho visto nooo allora che bello che ho visto che ho visto agna agna dai torna il mio rifle che vabbè fa culo sono tutti qua ma come sempre l'arma da mischia è sempre quella migliore guarda come si sta è stato io con il candelabro sono io col candelabro non te lo ridile ma sono io dormino sono anche da tonica non lo posso ma stanno facendo ok di qua c'è candelabra guarda che mi vedo eh con candelabri lì che fanno cose aiuto basta ma non ho l'ansia ma non ho l'ansia un piccino griglialo cos'è agatacristi non ne sto prendendo l'ansia ah non ho fatemi l'ansia dai ma sono un pollo ma raga sono un pollo un pollo sii vabbè sono un pollo raga ma di distruzione di massa posso dire Ah no aspetta però ho rimesso la stessa mappa Vogliamo tenere sempre 30 kg a basso E' uguale E' uguale si E' divertente Ovviamente E' un gioco stradiano che pare che metto noi la gana Si esatto Ma teniamo sempre my first deathmatch E' verlo Si è un stradiano Ma non sto dicendo Non posso editare il mio profil mi dice che non posso E' devi essere Non è assolutamente vero perché l'ho fatto E' profetto Non sono figlia della merda Perché tu devi cliccare sulla scritta Oh In questa mappa Oh mio dio Oh no che merda Che immunizia Madonna io da qua con la piada Ma fai cecchini La cecchinavo dall'altra parte della mappa Che volevi eh Che mamma è Che dolore Ma ero Harley Quinn ma che Cioè Ero Harley Quinn E vabbè Giustificato Eh c'era C'era scritto giustificato E va incazzata Io l'ho ventilata Io l'ho detto Vabbè Che cosa è successo Ah Mi è pancicata Nanny L'ho visto Ah Hingayー Mi hai fatto un meme di mail Scusami dove si va per questo posto incredibile di qua worth it va bene è scaricato no volevo riuscire per l'intervolo trovata sì allora aspetta di seguirti corri e investi praticamente sono stato depositato chi è che ha il laser scusi è un laserone della morte la cosa bella cosa triste che candelabro non ha tempo di ricarica il cavallo si non voglio cadere no no aiuto 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 si ma io non posso saltare così dai come come ho visto ma noi possiamo fare questa vita ogni volta che ci mettiamo vicenda cosa mi esploso davanti che ha fatto un po' ridere se ilenia è incazzatissima ma mi fa morire anche a me aspetta ma non è più ah no 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 io lo credo che sia questo ma Re ma cosa ne sa lei è una guaglia lei non ha quaglia lei ストcember potrei potrei essere una guaglia un fatto è tò ammazzato potrei essere una guaglia non hai fatto salto mi è saltata quindi non sei una guaglia quanto fa e va bene Sto andando a cercare praticamente solo il legno Ah, ok Non voglio C'è un momento di me? C'è qualcuno di me? Sei tu che mi sei arrivato da davanti Ok Pony Il legno sul verde Il legno sul verde Ci incontriamo lì E oggi la No Mi ucciso la Fred Dai È stata la piada ad ucciderti e a suicidarsi Ma l'ho visto Ma l'ora Ti ha una montata Vabbè ma l'ho visto che era lì Non puoi vedermi Ma l'ora Stavo mirando là da albo E così invece tu davanti a me No mi sono buttato giù io perché lo so facciamo più ad usare quel cazzo di coso Ok Ti ho sbagato E non hai Allora Tu dici che questo è terribile Dopo te ne metto una Che veramente non capisci un cazzo Ah perfetto No 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 ma non so lanciare ste granate io Cosa come rimbalzano con l'uniposco rimbalzano Con un riporno Vabbè Mi hai sniffato Ho sbagliato Ma perché che schifo Mi è arrivato un cadavere davanti No 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 Guarda anche di candelabra adesso basta Sì Vorrei dire ogni volta la zoria circa Che cosa cazzo era quello schifese Siete tutti passati dall'altra parte della mappa siete Fatto che torna anche indietro sono morta per questo Non sta ferma Non sta ferma io Non c'è più nessuno qua Eh sì Ma perché meno Eeeh voglio Nono Cascata Cascetta Non so fare le cose Io non sto più guardando i vostri schermi Sono troppo concentrato su non morire mamma mia ti ho scuracciato mi sono fatta ti ho diventato snake nooo ho sbagliato eh vabbè grazie mi hai fatto un favore ok no per il momento eleni è quella con più kill mi hai fatto un meme grazie sono stato un meme dragon kick cos'è questa cosa cos'è questa cosa la natura ho visto il scappamento eeeeh madonna sta malpa qua Oddio! Eeeh! Ho visto una Genkidama arrivare all'alto! Mamma mia! Ti ha marinato! Ti ho visto, ti aspetta! Mi sta a segnare! Agna! Mi hai eletta! 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 Ho preso proprio in braccio la tua bomba! L'ho anche baciata! Va bene! Non riesco mai a coprire noi cazzo! Eh? Sì! Sì! Non lo so! Che Jason! È terribile! Ho sbagliato! TUNF! Il Rambo Turco! Si può utilizzare in maniera normale! Si può usare anche il controller per chi lo volesse! Uh! Mamma mia! Ma io l'ho detto dopo metto una mappa che veramente non si capisce un cazzo eh! Mamma mia! Sto capendo qualcosa eh! E fu così che in quella mappa in realtà ci trovammo tutti! No fidati perché ti viene una nausea dopo cinque minuti Nani! Cosa ho fatto? Eh! Cosa ho fatto? Nello stesso punto scusami! Sì! Ti ho cucchiaiato Nani! Hai visto? Non c'è arma migliore del cucchiaio! Guarda! Ma non ho visto! Ti ho burpato Aile! Eeeh! Hai fatto il verde! Eeeh! Hai fatto anche io al candelabro! Che cosa è successo? Perché hai fatto lo sprinting della madonna? Eeeh! Sono stato marinato! Sono stato marinato! A me fa troppo ridere queste frasi perché parese mi sono fatte per farti incazzare! Cesso! Che ho visto? È stato un... È stato un... Ci sono un botto di cataveri blu qua dentro! È stato un frontale! Ma allora? Ti ho indicato! Eeeh! Sì va bene! Ho trippato una pianta e ho simpatto una tosta! Twift! C'è scritto! Non so tradurlo in italiano! Non so bravo! Sì è embarrassing! Cerco di fare il cecchino mi... Aia! Ti ho acquisito! Mi hai comprato! Eeeh! Ho acquistato! Io sono in un punto veramente bastardo! Ho fatto un achievement! Ho fatto! Che cazzo ho sbloccato il achievement? Allora guardo dopo! Eeeh! Chi è che mi tocca? Allora! 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 Ci siamo giuse vicino! Così si fa no? Sì! Ma io vedo esplosioni! Qualcosa! Perché eravamo tutti qui nell'angolino? Comunque! Tutti i cadaveri qui! Ehi! 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 Dove ci si nasconde? Ehi! 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 Ho impattato contro qualcuno! Mi sono caccato fortissimo! Allora! Mamma mia! Madonna! Mi sembrano le prime volte che gioco a Codem! Mi impanico che è una meraviglia! Ehi! Come è fatto a prendermi? Scusami! Non lo so! Non so nemmeno chi cazzo sto prendendo io! Continua! Stun, stun! No! No! What a guy! Eh sì! Non sono tutte queste cose! Ma non è vero! È andata dall'altra parte! Allora! Non possiamo smetterla di ammazzarci a vicenda! No! Cheater! E beh sì! Ma io non volevo quest'arma! Vaffanculo eh! Allora! Ho masticato la tosta! Ma come si permette lei a masticarmi? Allora! Ma l'hai toccato? Allora! Si mastica! E ho capito se voleva essere cogliata intera poteva dirlo! Faccio tutti i permetti? Faccio tutti i permetti? Faccio tutti i permetti! Caglio! Scusami! Faccio vedere io! Ti do io qualcosa da masticare! Un pochino! Ah! Sono stato arrangiato! Ecco! Sì! Ti do io qualcosa da masticare! Le mie botte! Sì! Chiado! Vada viva! Ho trasformato la pietra in una cheesecake! Non è buona la cheesecake! Che è successo? Adesso! Niente! 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 Dio che ansia! Ma dai! Ma come cazzo ho fatto! Io stavo mirando! Però... Ah! Ma non te! Ma non te! Io ho sbarato più o meno lì! Io stavo mirando! Vi lascio uccidere adesso! Che significa? Stavo mirando! Ops! Dove siete? Ritorno all'ordine! Oh no! Quindi adesso... Vabbè! Basta che adesso se vuole... Se lo uso! Il candelabro! Esatto! Sì! Ma veramente il problema è che il candelabro non ha tempo di ricarica! Tutte le altre armi sì! Il candelabro no! Ah! Sei stata maciorizzata! No dai! Eh sì! Sono stata macchilita addirittura! Allora! Stai giù! Ah! Qualcuno mi ha battuto addosso! Mamma mia sì! Io non! Ma non è vero! È suorato per qualcuno! No! No! Io non mi posso avvicinare a te! È licenziato in crescente! Mi senti! Mi senti! No! Cosa di? Mi sono fail! No! Mi è entrato un cuscusto nell'occhio! Aspetta! Ti è entrato un cuscusto nell'occhio! No! Mi fai jam it! Un ananasso nell'occhio! Ma no! Un ananasso nell'occhio! Ma no! Che ho impattato contro di te! Non mi hai preso mai nella vita! Sta roba bene! Sono stato scaldato! C'è un panino? Allora! Basta! In volo, tra le altre cose! Un pochino! Ma no! Ma no! Ho visto! Ho visto i uomicidi in dire! Ehi! Ho l'X per rispetto! Va bene! Va bene! Sempre contro la piatta! Tutti malchile sempre contro la piatta! Però stai stato tipo bravi! Stai stato bravi! Stai stato bravi adesso! Ho bloccato Steve! Sneak! Sì! Voglio già cambiarvi lo moccino che muove! Basta fare così! Oooo! Oh, eccola! E' questa è quella che volevo mettere. Oddio, questa gira intorno intorno. Torna alla stanza, mentre si danza, terimisa! Ma che brutta, che brutta questa map! Che brutta! Che brutta! Mi fa schifo! Che... Ah! Uh, che cazzo c'è qua? E poi ho una paura tremenda perché ho pure di capire... Ma l'ora ne ho due! Una davanti e una dietro! Ho certificato tutto! Noi sono andata, ho certificata! E' il problema che siamo ammattati a vicenda, di nuovo! E' il nostro destino, guarda, uno un! Ah! Mi hai fatto mano! Mi hai fatto mano! Che ora... Che ora ho ragdollata... Che ora ho ragdollato i legni. Il mio schermo è quello di regna che è quasi uguale! Che ho sempre incollato! Siete fatte l'una per l'altra! E vabbè, poi esplode! Vieni un po' con il bomettino! Io ho scoperto come toglierlo il bomettino, basta che guardo una candela. Madonna! Non mi è un cazzo di niente, per carità, però... Ah, sì! Che ha preso il candelabro. Tutti i convertiti a candelabro. Sì, lei è il candelabro o il candelabro. Ah, perché è una cosa di ricarica e quindi è più veloce, più... Vedo, vedo, vedo canelabrare lì. Ah, il bus! Io non riesco, io non riesco a dare... Ah, allora! Ho visto che andava a prendere! Sei soberbo? Allora, sta tenendo sulla cena, se lo so bene. Allora! Che tanto sento... Mai sono imbattibile col candelabro, raga. Oh, sì! Guarda che è tornato con la bomba! Sento... Non ci stiamo provando, ci stiamo provando, non ci stiamo riuscendo! Non sono morta! Mi sono manciata, almeno! Non ci stiamo... Non ci stiamo... Torno con la bomba, orso, dai! Mi è sforzato ogni l'altro, era un più già vicenda. Sempre lì dal giallo, l'avevo deciso. Mi sembrava un po' esagerato. Ma io ho sbagliato tasto, scusurizino. Eh, aderitura... Mi sembrava un po' esagerato. non lo sapevi sono morto 70 volte per colpa di sta cosa sono passata e mi ha fatto bank un copino e bravo anche fatto un copino non qualcos'altro allora sto vedendo questo che colpisca sempre sono in legna e poi prendono per sbaglio anche parte della vapa sono questo cappello qualche volta nani questo siamo tranquilli ti ho ventilato come vabbè su si bacchiamo si bacca no ti bacca allora e ti ho ucciso e mi sono ucciso ma chi fa veramente schifo quest'arma pensavo parlassi della mappa veramente l'unica degna è il camelabro non è vero lanciagranate è una meraviglia da usare quando vuoi divertirti mamma mia lanciagranate il lanciagranate è bello solo uso una persona solo perché se no non capisci semplicemente un cazzo di niente quello è vero guarda che vi vedo ho visto l'origine del colpo l'universo spero non è giusto stiamo diventando più bravi e si va bene è tosto ho cruncato in che san ci siamo presi per male siamo caduti insieme dun blu fa culo ma io non mi ricordi quello aia ho fatto la sneaky sono andato a guardare guarda che devi far così eh il problema è che io non so sia tu chi sei non ci ricordo ti vedo vedo quello del labbro felicio aia no non siamo nessuno niente mamma mia non provo la strada per niente quanto rumore sei facendo che casino beh non sto capendo st'arma ok ah ti ho mancato ti ho fatto un mal ti ho fatto un mal mi hai dato colpo di mango il mangro il cantante non lo sa mango lui ehi va bene quello mi 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 allora però sapevo mai che ci fossi tu alle in casa nell'azione non so cosa ti ho fatto si era pieno di sopra l'ho fatto attacco in salto e subito il bloodbord eh si non mi hai preso c'era il laser nani ho visto che c'è il laser che è lunghissimo ho rinnovato mi hai fatto scioppato ma fate che noi stiamo più ridendo per le scritte delle morti che per le morti in sé l'hai provato non sento il rispetto non sento no no che fraura dai ehi che finisci servavano le due ma che culo allora entri sto buco di merda oh ti devo non c'entrare che poi ti tiro la bomba ma allora mi è passato qualcuno a fianco credo no non è vero allora la schioppettata così e ho provato e ho provato ad allontanarmi ahahahah è successo una cosa bella si sono scalpata in testa la piada e revenge kill dov'è no qua viola ma non è vero chi c'è qualcuno che è falso è falso persona falsa io sono una persona falsa ma è stato umanato in benissimo come in questo buco cosa è innovata va bene siamo delle case praticamente immobiliari senza futuro e lo sento dio andiamo di vecchio stile non ero assolutamente lì posso dire che non ero lì non ero dove mi hai uccisa lasci fare lasci fare è tutto scemo ma io non vedo ma ora così me lo dici quella era ora ora io dico ara ara voglio che in giro su da che mi fa rara così muoio definitivamente e vabbè così veramente si muore e si risorge spaventata come le cose che si spaventano anche io di pugnazzo la wrightley aia direi che non andrò di pugnazzi alla wrightley una lotta di mi ha fatto ad uccidermi scusami nooo mi ha spesso di seguirmi mi sei passata davanti e vabbè ma perché la donna casino ma ma fa il culo non è vero comunque è dall'altra parte del mondo quella bomba è la seconda volta che mi uccido potrei anche smetterla minchia la tosta è 22 per forza sta prendendo tutti con i cupini ho detto io che andavo a cupini ho scaricato armi ma non è vero mai la possiamo smettere per cortesia ma non è vero mai allora allora aspetta no sono caduta forse sono ancora qua eh già ce n'ho uno dietro mi dimentico che parmi dietro sto coso lo sto qui a guardare e poi dico si dai va bene troppi troppi non volevo mangere questo eh si eh ma fa il culo non c'è un paradossu temporale scusami si perché tu hai ucciso me ma poi io ho ucciso te ho sbagliato ricraziamo i gatti che mi sono passati davanti ne hanno fatto morire male so che mi ami mi sono allontanata abbastanza aia non dove so allora che io però vorrei rispondere ecco eh quando madonna mia ma non ti può neanche sfiorare già ho crepe no mamma mia ma un corso di merda ah mi hai dato il Pax Pox non so che lo sia ho ucciso ho ucciso i leni e mi sono ucciso hai visto? di che succede? eh no 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 guarda qua no mi sono ammazzata ma che cavolo siete minchia impalato allora allora ah ti ho ucciso ti ho ucciso ti ho visto ti ho fatto un sincope ho fatto ah ma scusami qui ci siamo uccisi vicenda ok come grazie obama scusi ho visto dei cadavri volare che cosa è successo? tutti sono morti scusi scusi ma va bene che cazzo è successo? ma non è vero ero lontano 20 metri pensavi di essere lontano 20 metri e invece no ai leni ho vissuto calabria scoprire il buco ti ho scaricato va bene allora fa culo ma non c'era scritto non c'era scritto esatto no non ci sto capendo niente anche se no che è successo? che è successo? è successo? è successo? che è successo? è successo ma non ho sono stato bellissimo che è successo? sì Ho visto come bello questo rossetto. Dobbiamo fermare la tosta, Nani. Io stavo cercando di fare... Ma guarda, io lì ne siamo... Eravamo. Allora. Upsi, crazy. Allora? Abbiamo visto questo neacolo della 24. strada, l'ago, un pizzo di gatto. 34esimo, è scoperto di 10. Non c'è male, sparo! Ma che paura! Ma che paura! Questo scopo è andato tantissimo. Non avete idea. Non si chiude. Ma si vediamo di essere pari di morte e tutto. Guarda, siamo pari, ragazzi! Dobbiamo uccidere la tosta. Che succede? A beccarla, è un'anguilla. Aiuto! Io assolutamente sì. Mi ha scoperto una pacinco machine. Non so cosa sia. La pacinco machine è la... La gaccia. La gaccia. Sì. Ah! C'è la gaccia. Ma ti vuoi scopo di me? L'avete assicurato sempre? Allora? E io pulo tantissimo sulla piada. Allora, se ce l'ho sempre assicurato. Allora? Sono scoperta in mezzo al bordello. No, sono giudicato! Eh, non è arrivato un uviletto, è arrivato. E noi abbiamo un'acqua. Mi tratterò di dire qualcosa. Mh! Ma esce domani alle 6? Sì. Sì. Aspetta al massimo. Vabbè, sicuramente. Ops! Domani vedi live! Domani, quindi, ragazzi, cento... trenta wish. Scrolla cake. Sì, però non è possibile che si pianta in ogni... Un buco di culo. Un buco di culo. Un metà orso. Sì. No, no, io. Io non voglio sapere... La gente che entra... In questo momento è live. E ci guarda. Buongiorno. Buonasera. Ha vinto la tos. Ci ha fatto una tripla. World of Duty. Cosa? Sai che ho sbloccato? Le skin. Sblocchi solo skin qua. Sono fortissima con quell'arma, regà. Oh, mamma mia. Oh, questa mappa è una merda. Sì, però... È andata via un'ora già. È già andata via un'ora. Abbiamo fatto tre partite. C'è un'altra e finisco live. Quanto fai per dire? Ok. Io in pieno ne faccio sempre un'ora e mezza. Ah, va bene. Un'altra mezz'oretta ci sta. Un'altra mezz'oretta. Un'altra mezz'oretta. Scegli la mappa stavolta. Scegli una tranquilla. Ok. Fatto, fatto. Ok. Adesso ho scelto la morte. No, ok. No, ok. È il museo. Ah, il museo è facile, dai. No. Ma il museo è quello di prima? No. Eh. Eh, che paura. Sono già scese le scale. Già c'era la morte. Sì, sono io. Eh! Five fingers! Ho derpiccato la nai. Non so quello signifiè. Però sì. Secondo te, io sì. Non lo so. Ma smettete questi... con questi cazzi di metallo! Ci sono... sono stato denunciato dalla.... Da Elenia. Denuncia! E' denounced! Denounced un'altra... non si capisce più un cazzo tu pensa in quattro, pensa in due, è successo un casino in due come ho fatto? guardale, guardale dove sono cosa stanno facendo con tutti questi panni in giro? no, qui dentro è terribile dosare no, è veramente schifo, è schifo di dosare ma che sei qua, vieni qui, dove vai? scappare guarda che scappa ah, ho raggiunto la morte rambo turco mi ho masticato allora quando è che ci invitate al matrimonio? allora, ho provisto un cadavolo a riparmi ma la sentiamo no ahia, com'ho fatto? oh grazie come la magia arcana è questa? ho monopolizzato la piada bene, vogliamo giocare con tutti andiamo a giocare con tutti che cazzo di paura torno agli origini ma è ho fatto io ho stato un proiettile vagante come cazzo è possibile che io abbia questa precisione di uccidere me stessa e gli altri no ah, ma basta mettermi datemi soldi se potete trasformare queste machine si, fa 5 machine esatto guarda, guarda la piada che monetizza si, tanto posso bonizzare quello che voglio arriva la sua reni e mi dice no, non va bene perché? eh, copierate sulla musica ah venduta ma tanto non posso scuernese mi mi distrugge le le copierate delle musiche eh no ho capito il tuo gioco non sulle musiche anche sui filmati si, è vero ho detto ma il tuo è filmato ma non è vero ma come? però ma allora come sei arrivata fino a poi ti stavo sparando con un fucile che po' cazzo che zittoi? che zittoi? che zittoi? guarda, guarda che t'ho vista me t'ho vista smettetela matto insieme che forte marina nella mano mi hai fatto mi hai fatto le lezioni mi hai letto non lo so perché eh ho capito malissimo ho twerkato su linea per qualche motivo non dimmi che hai capito quella cosa la pifora eh ho capito malissimo non lascio farlo mi hai fatto il mio canale mi hai fatto il mio canale ha finito di essere family friend da quando ho cominciato a portare family 16 con clive che è illegale pensavo da quando che mi conosci pensavo anch'io mi hai fatto la cosa perché sta con questa persona che è il vestido della matematica però a quanto pare non lo so allora intramo dai fantasmi cercamogli a capire sì sì dove cazzo sono questo pezzo è successo che è insaporita insaporita che è insaporita come sugli aromi cos'è successo perché mi hai trovato anche la camera scusami che è successo sei cambiata sei cambiata troppo in base ma voleva almeno fare le scale copi rig allora allora scusami ho usato una sincope ma leone che mi proteggerà ecco così che morì per la mente allora ho usato una sincope vabbè fanno tutti col fucile allora perché il mio duello onorevole con la piada io oggi il mio il mio passino cucina una la insaporisco l'altra la metto a bollire insaporisco e poi l'altra la bollisco a beccare qualcuno magari mira cervello vanni funzionate tutti insieme per favore ma questo è un spray un spray un spray un spray un spray non riesco così spara e prega ok se colpisci qualcuno sei più bravo degli altri ah vabbè no ok allora madonna noi dobbiamo smettere di fare questa cosa però eh no no è così divertente che vi seguite per metà mappa poi vi prendete tutti porre la mente allora allora tutto stato sull'appiato tutto stato no no niente io stavo io stavo cercando di colpire l'appiato sono inutile guarda che sguscio via come un'anguilla ma se ti ho preso quattordici volte 8 8 8 dobbiamo smetterla dobbiamo smetterla poi si dicono proprio che dite di smetterla e più non ce la fate e paponk patonk no muoio eh sì basta con questo poton sto tonto ti ho fatto punk che ti ho fatto allora il punk eh va bene non lo so mi hai conquistato come il suo risico noi continuiamo a dirlo che queste due sono fatte l'una per l'altra ma loro non ci ascolta sono stato enveloppato l'uva per l'altra l'uva esatto l'uva però un pugno pieno di amare niente stanno beccando qualcuno stanno facendo pinta te lo dice però ho ucciso cosa è successo avevo avuto una sincopa che è successo ti ho ucciso e poi sono morto perché l'esplosione era troppo grande io ero là sta morto la gara la domanda è che ci siamo uccise io e l'ilene e poi tu e Albu si è ucciso è stato molto divertente appunto con il cronat ma non c'è ah è una strazzata il press x tu ho provato a farlo ma non succede un cazzo mi hai messo nel cronat adesso e vabbè niente io cuoca cuocanata una cocarina cocarina ma Dio mio cosa cazzo mi ha ricordato cocarina andiamo indietro mi hai bloccato perché siamo siamo anziani dentro cocarina 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 vabbè basta semplicemente ricordare Nani che quelli nati prima del 98 sono i più vecchi di Google di Google lo so noi due siamo più vecchi di Google io sono più vecchi di Google di 4 anni con cosa di ah e io di 2 che ti devo dire fu dritta nel culo mamma mia ho sbagliato vabbè vabbè sono più licenziato a caso pensa al Pau non è il Pau non è il Pau qui dentro infinito no non qui dentro allora partire mi sono in supermercato qualcuno venga a prendermi vengo io che me la vengo io la piada io vado la testata con tu forse non è stata una buona idea prendere il candelato esatto ho fatto literally ah ah il giudetto no 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 tu sei successo sei cambiata sei cambiata la stessa palla allora basta allora basta basta hai fatto 10 kill proprio culo eh raga non mi ero preoccupata mi eri dietro mi eri dietro è stata morta aiuti zizi oh mi sono bloccata contro qualcosa non potevo muovere eh c'era la sorta del leoncino quella che ti ha bloccato te ho fritto te ho fritto fritto misto fritto il remiste il fritto misto il fritto misto oddio ma allora ho fatto il fider di me ma allora adesso ho successo tu sei cambiata non la dovrà riappare questa è la più rapida oggi siamo in fase niente siamo in fase remeram oggi siamo nostalgici ahia mi hai fatto un plank che cazzo è successo è arrivata la mia granata dopo c'è mentre Lilia sta facendo un plank su di me è arrivata la mia granata guardala questo dritto per dritto questo quanta cattiveria contro noi poveri corvi allora ti ho rollato non mi rollare allora non ti diventi tu mi hai spoilerato mi hai spoilerato anche non è vero non sono una persona così mentale ah quello è vero ah ma basta sign out mi hai detto vai via qualcuno ma perché ho sparato ti ho beccato in faccia ma l'esposizione non ci so anche me tu ho mangiato ma alla stessa non sono morta io ti ho cucinato però tu mi hai mangiato ma la smettiamo? dice io posso mai sparare a una persona che direttamente deve avere senza caperlo sono stato in scavato ho sbagliato ho sbagliato stiamo facendo comunque io ve lo dico mi arrivate a un punto morto ah hai venuto questo spavore al prezzo più basso scusami perché è il prezzo più basso sei ok eh sì aiuto io ne vado via una notta ok di qua ok poi di qui che paura comunque io non ci credo che abbiamo fatto un'ora di questa cosa io non ci credo mai un'ora e un quarto per la precisione ahia mi hai formattato no sono cascata giù e torno da su ma era lontanissimo che significa sì ho capito che è una noia sto museo ma non ho che si muore tutti sulle scale è una visita un po' a desiderare cosa sta succedendo qui dove sì ma eravate in quattro lì siamo tutti qui e sono morta sì ho visto una cosa di sotto erribile non sto facendo completamente cagare mi sento felice c'è qualcuno lì ti vedo il che sei lì guarda che allora però però lei mi ha fritto la tosta mi ha fritto ma che bello sto gusto comunque ragazze non per dirlo ma c'è eleni a due punti tu sei stato messo in ritardo perché come lo volevo dire io ero un'offesa un bella buona io non so così mi hanno ritardato l'appuntamento eh ma lo stavo dicendo male io sono stato desadecimalizzato è una madonna ma come come ho fatto appena di passando non avevo preso questo non è vero dai gioco di merda che bello che ho ucciso lì e ultimamente la tosta mi ha ucciso ma come ho fatto a vincere lalle era arrivata 2029 mamma mia babbo era lì babbo bellissimo è bellissimo meraviglioso allora madonna santa mamma mia meraviglioso è stato incredibile ogni tanto dobbiamo farlo è bellissimo è troppo bello cioè ti distrugge ogni tipo di neurone è bellissimo è troppo bello e questo è da fare ogni tanto è proprio spaccare spaccare il cervello esatto aspezzichi e bocconi si esatto è troppo bello sono diversi da un sacco ma perché altrimenti se continuiamo per troppi giorni ci diventiamo di gomma ma che ci diventiamo di gomma nani se continuiamo questo gioco qua ci odiamo assolutamente credo che sia è fatto apposta sì credo che sia come uno sì esatto esattamente come uno che hai fatto per far litigare le persone come amongas come risico e i bambini dai amongas è fatto apposta devi trovare l'impostore e devi fare lo stronzo e se non fatti un'amicizia una coltellata in vita mamma mia è vero mamma mia mamma mia chiamano seriamente lupus in fabula questo è il classico gioco ma io sono bravo che si sta alla vita da noi c'è un gioco da non da tavolo da di carte in cui è letteralmente proprio lupus in fabula però non mi ricordo si chiama l'assassino in cui ognuno ha un ruolo in base alla carta che ha e bisogna trovare chi è stato l'assassino ed è molto particolare ve lo devo raccontare perché è particolare si fa con le carte siciliane dai che figata mi sta bellissimo ci giocheremo quando scenderete va bene se scenderemo e allora da lei non amitarti le ali esatto io già soffro che siete lontani esatto e pensa a noi non siamo tutti vicini di casa sarebbe alla fine del vicinato perché ci odierebbero non sarebbe migliori amici esatto se fossimo vicini di casa io e Tos possibilmente a questo riccio sarebbero già picchiato vado scendi di chiesa che ti faccio cuore così prendevo la non si da si da si da si all'inizio era tutto un ti odio ti odio poi era tutto un ma e allora e va bene e va bene dai va bene è stato divertentissimo sono in un minso piccere mi sono divertita un sacco abbiamo fatto un ore 22 non l'ho neanche sentita non è vero non l'ho neanche sentita cioè è scomparsa è evaporata questo ore 22 mi sono divertita un sacco non mi divertivo così giocando casual game da una vita perché di solito fanno tutti cacare questo è brutto ma è fatto bene questo è brutto ed è fatto brutto apposta è divertente è uno di quelli che è brutti che è brutto che è brutto però lo sa perfettamente non vuole neanche migliorarsi intanto è fatto lì per picchiarsi come human soul flat esatto va bene iota esatto mi chiede human soul flat perché non l'altezza è quella mi chiede human soul flat dobbiamo prenderlo bello human soul flat moriamo cioè in live noi veramente ascendiamo al signore prima ci riempiamo di insulti e bestemmi e poi si ascendiamo al signore ma la cazzo se ne fotte la cazzo di gamba cazzo se ne fotte cioè è fatta apposta per odiarti per picchiarti hai un problema con qualcuno vediamoci su human soul flat ah va bene vediamoci su human soul flat vediamoci su human soul flat madonna devo ritrovare anche quel sei guarda la parola quel gioco con sempre io mattini però rossi gialli blu verdi che si facevano alla box ah ho capito cosa dici non lo so se ce l'ho però io non ce l'ho ho capito il gioco ma non gag beast sì perché perché quello ah gag beast mi sai che ce l'ho quello lì si può giocarlo come no mi sono mai riuscita a giocarlo perché lo giocavo quando c'era la cosa di il volume la giocavo quando c'era il pass di microsoft e rega non funzionava un cazzo magari l'hanno migliorato ora l'hanno migliorato sì però comunque io ho un po' un problema per me tutte queste librerie che io devo comprare l'abbonamento per poter giocare a un gioco le odio anch'io ma io capisco che magari è gente che non si può permettere di comprare ogni volta che esce un gioco cioè neanche io mi posso permettere di comprare ogni volta che esce un gioco il nuovo titolo infatti non lo faccio risparmio su un titolo che mi interessa come è stato starfield come è stato baldur's gate che non appena io ho avuto la possibilità l'ho acchiappato immediatamente ma è mio quando io voglio di giocarci anche se dico guarda ogni questo mese io non ce ne ho i soldi per l'abbonamento tu guarda lo posso giocare lo stesso vaffanculo io odio la possibilità che esista un gioco che io ho e ho giocato ma che in realtà non è mio una mamma mia è terribile nel frattempo che io compro l'abbonamento ogni volta quel gioco me lo sarei potuto comprare 47 volte perché non è ti interessa mica tutta la libreria che ti da ma quanto costa GameList 10 euro 20 18,99 18,99 eh sì l'abbonamento di Microsoft quanto costa 11 sinceramente però per un mese però se tu spendi 18,99 ma è tua vita è infatti fra i due sinceramente è il mio per sempre se lo prendo da Microsoft 11 euro ogni volta e sì va bene 11 euro al mese che poi dico sì però non hai solo quel gioco ok va bene però comunque uniculata no quello sì ammetti caso come era successo a me no che era per giocare con gli altri GameBeast e solo con loro e solo a quel gioco e che cazzo mi serve comprare tutto il pass scusatemi appunto dico è fatto per quelle persone che hanno pochi risparmi per giocare a un gioco solo il pass se lo fa chi vuole giocare chi vuole provare tanti giochi per vedere quali comprare esatto questo secondo me è fatto proprio per chi vuole provare tanti giochi io non non è che non dico non lo giustifico dico semplicemente non fa per noi faccio prima prendermene uno io stessa perché se io avessi dovuto fare come ho fatto con Elden Ring per esempio con un abbonamento io avrei sprecato i miei soldi perché io ho avuto una settimana talmente intensa di gioco su Elden Ring che io mi svegliavo facevo colazione mi sbrigavo le mie piccole cose a casa e io giocavo tutto il giorno a Elden Ring come una pazza dopo di che ho avuto la saturazione e ho detto basta e non l'ho toccato per un mese e poi ci ho giocato altre 350 ore però nel frattempo avrei sprecato quel mese eh sì eh va bene dai discorsi delerati a parte delle 10 e mezza te lo dico per 124 ore io e te insieme io ne ho 674 sì ma tu hai fatto più run io ho fatto due run e le abbiamo speedrun andate malamente tutte tutte però te l'ho fatto platinare però l'abbiamo platinato perché noi non siamo fossi allora fare malegna è stato un incubo però ma la sicuro che malegna l'abbiamo fatta così l'abbiamo esplosa in 15 pezzi con la mia luna di nanni per così sia 15 pezzi era ferma lì e diceva vabbè e morirò ma io non parlavo della run con lei io parlavo della mia run in solo fare malegna è stato un incubo vabbè fai tu malegna da mago che non sta ferma l'abbè l'abbè con la luna di ranni l'entrava assideramento ogni 15 secondi con quella roba perché tanto resta lì e lei non la vede perché dice quando tu casti schiva il tuo casting dopo ti chiedi rimane là la luna e dice aspetta e arriva veramente si piazza e esplode e lei non la vede perché è stupida ah perfetto capisco che non hai i propri filari però no perché la luna è classificata come magia scura come magia delle ombre no non è neanche questo il fatto che lei conti il casting come la prima azione che fa ma scoppia dopo è come se tu laggiasi una bomba lei schiva il gesto di tu che lanci la bomba e dopodiché basta non c'è più niente per lei quella cosa è scomparsa l'azione si è conclusa quindi la mia intelligenza artificiale non riesce a capire che io mi devo continuare a spostare è stupido e vabbè non ha i bulli ocolare a me che non ce li ha i bulli ocolare per davvero è appunto e sì quindi noi a questo punto ci vediamo domani con forse anche la quest di brysley che farò subito ho fatto quella di nuoviletta quindi vediamo sicuramente domani sarò con loro ovviamente ciao e noi non sappiamo se domani mattina ci saremo perché la piada mi ha detto ma io non ci sarò di mattina io sicuramente sarò di sera perché lavoro eh io non ci sarò la sera eh non mi preoccupare comunque appunto faccio anche un attimo una marchetta forse domani mattina con la piada se riesce a liberarsi velocemente continuiamo we were here perché abbiamo scoperto che cazzo era il problema con quel cazzo di indovimento e cioè che gli sviluppatori sono degli bastanti no sì un pochino su quella parte lì abbastanza no si hanno proprio sfogato tutta la loro frustrazione sessuale del fatto che loro moglie o loro marito non glielo dava più no no ok ok l'ho 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 Ciao. Ciao. Bye-bye.